E Osanae, Osanaa Cristo Signor Osanae, Osanae, Osanaa il P***o Signor Signori, buonasera Vediamo a Clara com'è Che fregna della Madonna, mi sc***erei da sola così Cioè, ma vabbè, occhi chiusi, frate Ma di che stiamo a parlare? Signori, no, mi dissocio dalla madre di Loco Loco che sta guardando la live Signora, intendevo ovviamente delle cose Cioè, dei video per gente cristiana Ovviamente parlando, niente di strano Scusatemi tanto Signori, allora Io vorrei sapere se ci sono delle persone in chat Aspetta che devo aggiornare il sub goal perché mi sono dimenticata Perché purtroppo quando è la 104 e sei anche una suora È un po' un problema tecnico Allora, quanti di voi vorrebbero venire a confessarsi Nel mio confessionale della chiesa? Fai vedere il costume intero Frate Allora, immagino uno che dice Fai vedere il costume intero Sì, io letteralmente sembro una tovaglia Cosa devo essere? Cioè, guardami Oh mio Dio Con i calzini, eh I calzini sono la parte più importante Vedete, eh I calzini Perché l'ho fatto apposta antifeticisti Perché io sono sempre avanti, signori Io lo so che ci sarebbe stato qualcuno a fare la clip dei miei piedi Invece va attaccata al c***o E mi toccate veramente il cialone Quello che non ho effettivamente parlando Cioè, guardate che 360 Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Sono una sora veramente iper mega fottutamente sexy, c***o E dovete stare solo zitti perché Cioè, non esiste Una sora più bella di me L'ho vista solamente una volta Ed era Lady Malena Quando ruolava un certo tipo di film Purtroppo qua non posso dire live Però vabbè Ci siamo un po' Vabbè, ci siamo capiti Ok ragazzi, questo è il posto Ok, forse sono un po' tumaccia alta Ma porca miseria, raga Sono alta come il nostro carissimo signore Che ci guarda dall'alto dei cieli Dice Gigenfazen Ok ragazzi Le armi lasciano un po' desiderare Ma non è un problema Perché La sora sa sempre come Gestire i fight E dammela pompus Prendi questo Ok, allora abbiamo air Perché sa tirare le C4 Uè, pronto? Buonasera Raga, il boss Subito il boss Subito il boss Subito il boss Subito il boss Atleta, no Prima le kill Prima le kill Prima le kill Prima le kill Cioè Nel senso Il boss è importante Però le kill Cioè nel senso Non posso lasciarli qua Che si fight Devo andare io Hanno preso già la chiave del bunker No Forse non avete capito qua Ok ragazzi Questo è il fight Questo è il fight Questo è il fight Questo è il fight E dammi la Tommy gun Sono la suora Comando io qui Mother tracker Aburino 4 Vabbè va I don't care Oh ci c'è uno Vabbè frate ma Ma questi qua che mi raccianno oggi Ok Ok Quella è ancora là sopra comunque Frate una suora che gioca la suora e che gioca a fortnite Ma di che stiamo parlando Sapete che questo qua se ne prende la zipline Ve lo giuro se prende la zipline muore Ve lo giuro su mia madre Secondo me è ancora lì che vuole prendere la zipline Non so perché L'ho detto Lo sapevo Lo sapevo A birla Buonasera Come stiamo Tutto bene Dammi qua le pallette rosa Ciao Allora però Beh è rotto Ragazzi le suore si ubriacano pure in chiesa Guarda come me ubriaco Guarda che bel ciaggone Guarda come gli s***o in faccia No mi dissocio alzo le mani Non era nulla di strano Scusatemi Era solamente una riflessione tra me medesima E basta Attenzione la suora usa tecnica pompa La suora usa tecnica pompa ancora La suora sale E va di tomica Andiamo sopra raga dai Non me ne frega niente Che poi non mi serve nulla andare sopra Cioè ho già il loot che voglio Quindi È solo per andare a fightare Per il pompa mitico Sì ma non ha senso il pompa mitico ragazzi Posso essere sincera con voi? Vi dico la mia verità Il pompa nuova è molto forte Ma lo spasso rimane superiore Per il semplice fatto che il pompa mitico Dovrebbe fare in head max 1,70 Lo prendiamo per il content Prendiamolo nel senso Però è molto meglio lo spasso Ve lo posso assicurare La suora riesce a udire un nemico E si mette sul tetto della casa Full box La suora ha portato E benedetto ufficialmente Due cricchetti Arrivederci E grazie per aver giocato Con suor cappella Vediamo se mi do qualcosa Per fare più danno col pompa Questo non mi serve Eccolo qua Eccolo qua Più danno col pompa E più danno con gli ultimi 4 colpi di SMG Fortissimo questo Con le tombi canne fortissimo Ora secondo La legge Della suora Eccoli qua Qua c'è un fight un po' strano La suora punisce Il mio nome è suor cappella E non puoi competere con le Tutte che vogliono la suora Guarda come sono affamati di suora Guarda come sta avvenendo il sonno La suora La suora non perdona Non puoi scappare da suor cappella Vieni qua Bello mio dove sei Amore Vieni a prendere la benedizione Vuoi prendere il giugiolone Prendi la benedizione E la suora cappella La vince così Con estrema facilità Arrivederci E grazie Amen Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti